Sono le benemerenze del CONI e davvero con grande piacere che stasera assisteremo a quello che è un doveroso riconoscimento per un sardo ormai d'adozione, Jack De Vecchi, capitano della Dinobanco di Sardegna, che sta facendo un pochino da traino a tante e tante altre discipline, non solo il basket, per quanto riguarda che cosa? Quella passione, quell'entusiasmo, Jack? Massi, io dico sempre che lo sport è vita, in tanti lo dico, non sono io a dirlo, ed è la verità, nel senso che a me personalmente mi ha dato tanto e credo che possa dare tanto soprattutto ai giovani che si avvicinano allo sport, è una cosa bella, ti dà le linee guida per la vita, quindi questo secondo me è importante, sono orato oggi di essere qua, ringrazio infatti il CONI per l'invito e niente, ringrazio anche te per avermi dato ormai del Sassarese. Beh, ormai sì, anche perché hai preso il caso, insomma non stiamo lì a svelare tante cose, parliamo un pochino anche di Dinamo, visto che siamo qua, dicevamo poc'anzi, Dinamo con la sua idea di apertura ha praticamente rappresentato e continua a rappresentare un'intera isola, tu lo sai benissimo, perché insomma viaggiamo spesso insieme per raccogliere quello che è il calore di questa isola, di questo popolo, un popolo che poi si rivela sportivo a 360 gradi, perché qua stasera premeremo tanti campioni italiani e tante discipline diverse, è un ottimo segnale, sarà quest'aria? Ma sicuramente è un segnale super, ovviamente noi siamo quelle più in vista, la Dinamo è la società più in vista in Sardegna, siamo al Cagliari Calcio, però ci sono altre tante belle realtà, è giusto che venga riconosciuto l'ottimo lavoro che viene fatto durante tutto l'anno, e quindi credo che sia un'ottima manifestazione. Ripeto, noi siamo fortunati, avere spesso i riflettori puntati su di noi, mi dispiace, io sono un amante e poi guardo appena posso in tv o anche dal vivo tutte le discipline sportive possibili e immaginabili, perché credo che in ogni disciplina ci sia dietro un sacrificio, credo ed è così, sacrifici enormi che spesso però non vengono rivalutati, ricambiati con la giusta attenzione, quindi questo è importante e sono contento, insomma, vivo lo sport, vivo lo sport sardo e vivo lo sport sassarese. La saggezza del capitano Jack De Vecchi, grazie. A voi, ciao. Ciao.